Musica Rappresento l'azienda Gruppo 2M di Quarto, provincia di Napoli e mi sono occupata della parte tecnica relativa alla spa, quindi alla mini piscina che è costituita da un impianto idromassaggio con 4 bocchette, un impianto cascata e un lettino a piastre geyser per un massaggio leggero. È inclusa nella vasca anche una cronoterapia sviluppata attraverso un faro con un LED multicolore che permette il cambio cromatico delle luci interno vasca. Musica Perché una persona dovrebbe frequentare una spa? Dovrebbe frequentare una spa innanzitutto per un benessere psicofisico, quindi qualcosa che faccia bene al corpo e alla mente. Al corpo fa bene perché con l'uso dell'acqua, l'idroterapia è sempre stata qualcosa che già gli antichi romani consigliavano per far bene al corpo, ma come dicevo fa bene anche alla mente perché rilassarsi in un ambiente confortevole certamente ci concilia meglio anche con la vita e poi voglio dire tutto ciò, se tutto ciò viene diretto da una persona che da anni si occupa di questo settore con professionalità come la signora Giovanna è chiaro che siamo in ottime mani. Musica Musica Allons pronger, Valencia e le Méditerranée Musica Allons pronger, Valencia e le Méditerranée Musica Abbiamo cercato di realizzare una struttura nel migliore dei modi possibili. Ci siamo impegnati, ci abbiamo messo tanto lavoro, ci abbiamo messo tanta passione e abbiamo cercato veramente di fare il meglio che potevamo fare. La struttura, oltre ad un centro estetico all'avanguardia, un DB Center dove Giovanna ormai è creante trentennale della DB DB comunque è un nome a livello internazionale. Abbiamo realizzato questo percorso SPA per cercare di dare un servizio più alla clientela cercando comunque di creare un ambiente quanto più familiare possibile. La struttura è composta da una piscina con idromassaggio, lama con cascata per la cervicale, un lettino per il massaggio ad aria e quattro dei massaggi spalle e gambe. Poi c'è la sauna, questa è una sauna finlandese, tutta di pino freggiato. attaccata alla sauna c'è una doccia emozionale, doccia emozionale che funziona sia come doccia, sia come cascata e sia come neubilizzatore. Diciamo che è un senso di piacere dopo aver fatto una sauna che comunque è intorno agli 85 gradi. Poi c'è il bagno turco con un sistema di promoterapia, con doccette, attrezzato penso più di questo non scuola della foto. Vi aspettiamo alla GF Beauty Care, alla sala stradale Sette Appia, Forchia, a confine col comune di Renzo. Grazie a tutti.